Beh fuori, ma il funzionamento del registro, questo registro non risponde più, qua lo sento più acuta, non sento la differenza, una voce e un'altra voce, questo problema si possono risolvere non smontando tutto, ma si possono risolvere da qua, vediamo cosa succede. I registri funzionano così, adesso ho inserito questi registri qua, che dovrebbero aprirsi così, poi cambio l'altra, si aprono, però questa dovrebbe essere chiusa e devono essere aperti questi, e poi aperti tutti i tre, successo che è saltato, adesso riparazione, adesso si apre uno, inserendo questa, inserisco questa, dovrebbe aprirsi, questa e l'altra, uno in cassotto, e una voce sopra, eccole, adesso apro tutti i tre, con questo registro qua, e sono aperti tutti i tre, bene, io prendo questa, dovrebbe essere aperta, sentiamo, una voce grave, una grave, una acuta, e un'altra, con l'altra voce, un'altra acuta, un'altra voce acuta, un'altra, tolgo quella grave, una voce, e una una voce diversa, si sente di più quando sono una voce, una voce diversa ma la stessa e una voce come se fosse ottava giù, una voce grave, una voce acuta senza cambiare, l'altra voce di stessa ottava, non fai autoreparazione, se hai un problema chiamami.